Siamo con la nostra Penelope che si beve il caffè Wengo, con la nostra Penelope. Dici chi sei Penelope? Sempre mentre sto facendo qualcosa mi chiedi così, questi sono tentativi di farmi andare il caffè di traverso. Uno strozzamento in diretta sarebbe farebbe un bucchio di like Penelope, pensaci, pensaci. Ah, di like, proprio. Scusa, frufru, vieni dalla tua mamma, frufru. Vieni dalla tua mamma, frufru. Cioè, la frufru, le ho comprato due pappe e ora è tutta piena di bolle, perché vuole mangiarle tutte e due e invece ne dovrebbe mangiare solo una. A te devi dargliene solo una, Befana. E sai perché le ho comprato anche l'altra? Perché si scorcia e poi la vomita. Ma sei una Befana, dagli quella che gli va bene, no? Cioè, non quelli che gli va male. Cosa è il comico? E lo so, è che sembra che non vada niente bene, ma lei ha lo stomaco delicatissimo. Adesso vediamo, cercherò di capirci qualcosa un po' meglio quando vado all'altra casa. Insomma, cercherò di dividere i cibi, adesso vediamo. Bene, bene, ma ne parleremo lunedì, ma dici chi sei? Io sono Penelope, sono una cartomante, una religiosa afro-brasiliana e mi occupo di magia e esoterismo da quando avevo 15 anni. Mi potete contattare sull'account Instagram Penelope Uengo, Penelope W-E-N-G-O. E lì mi potete scrivere. Io appena vedo la vostra richiesta, vedrò la vostra richiesta, vi risponderò. E se doveste avere problemi con l'account Instagram, mi potete scrivere al numero WhatsApp 366-440-3600. Bene, ci vediamo lunedì per capire se quella persona a cui pensi sarà destinata a te. Ciao a tutti. Esa è interessante.